La danzatrice si è raccontata assieme al marito nel talk pomeridiano di Rai 1, l'esperienza a ballando e l'amore per il marito. Samantha Togni e Mario Russo a ruota libera. Ospiti a estate in diretta, Rai 1, sono stati intervistati da Roberta Capua. Diversi i temi affrontati, dal colpo di fulmine che li ha uniti su un treno facendoli convolare a nozze nel giro di soli sette mesi, all'addio della danzatrice a ballando con le stelle, fino al segreto d'amore che oggi li fa vivere serenamente, nonostante non sia facile gestire una famiglia allargata, Togni ha un figlio di 20 anni mentre Russo ne ha 3, 19, 17 e 15 anni. Pronti via e subito la Capua ha chiesto alla ballerina che cosa le abbia lasciato l'esperienza, durata parecchi anni, a ballando con le stelle. Mi ha lasciato un grande segno, ci sono cresciuta ha spiegato la Togni. Sono entrata a 23 anni e mi ha cambiato la vita professionale e personale. Ho un ricordo molto bello, ho conosciuto tantissime persone e la possibilità di cambiare. Fino ad allora la mia carriera era indirizzata su un certo lato e poi ho iniziato a fare cose diverse. Infatti Samantha è diventata una conduttrice televisiva. Curioso il fatto che nel parlare di ballando non abbia riservato alcuna menzione speciale a Millie Carlucci. D'altra parte pare che con la presentatrice non sia rimasto un rapporto idilliaco. Lo ha lasciato intendere in un paio di interviste del passato la stessa Togni che, se da un lato ha sottolineato di provare stima per la Carlucci, dall'altro ha reso noto di non sentirla più e di essersi vista bocciare da lei un progetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.